Al Viminale, incontro del ministro Piantiadosi con i vertici di federazione gioco calcio, della Lega Calcio per fare il punto sulla sicurezza attorno a queste manifestazioni sportive. Eccoci con Andrea Maggiore in diretta. Andrea. Sì, buongiorno Fabio. L'incontro è previsto all'inizio intorno alle 12, quindi dovrebbe essere già partito questo importante vertice seguito agli scontri tra oltre del Napoli e della Roma sulla 1 all'altezza di Arezzo. Ricordiamo che all'incontro oltre al ministro c'è il presidente della Feder Calcio Gabriele Gravina, il presidente della Lega Calcio di Serie A Lorenzo Casini, anche il ministro dello sport Andrea Abodi e il capo della polizia Lamberto Giannini. Matteo Piantiadosi, il titolare del Viminale, ha assicurato che si procederà con la linea del rigore, perché ha detto ci saranno decine di DASPO per un fatto vergognoso, stiamo già immaginando controoffensive. Il ministro interno ha anche parlato che ci sono identificazioni in corso, mentre sui quattro arresti, di cui lo ricordiamo, tre ultra sono già stati scarcerati perché l'arresto in flagranza di ferita, dice, sono pochi, sono stati fatti pochi, perché sono validi soltanto nelle prime 48 ore dopo i fatti. Insomma, un governo che vuole fare un giro di vite contro questi ultra che, come è accaduto sull'A1, si sono resi protagonisti di un episodio di estrema violenza che ha non solo portato al ferimento di un tifoso, ma anche bloccato l'autostrada dove stavano procedendo moltissime macchine, creando dei disagi. Infatti erano indagati anche per interruzione di pubblico servizio per i trasporti. Vedremo che cosa uscirà da questa riunione, quali saranno le misure prese dal governo. Per ora è tutto, a te.